Oma, arrivi a rimu, va? E va? e quindi ho scartato questo è il 40.000 non lo sono? non lo sono tutto se ho scartato sono i 20.000 sono i 20.000 si sono i 20.000 se non è la mia quando c'è il mio siderio, il loro quando c'è la vita non abbiamo bisogno si è la mia non sono così ma ci sono messi in il ladang perchè ti ha dato e l'ultimo io ti amo vado a compagnie adesso ci sono ma tu è stato non ci sono è l'ultimo non ci sono che ci sono ma non mi sono seguire questo si è così allora che ci sono si è andato e l'amore lo spiello è l'amore non si è indietro lo sai dove e lo sei i li orgio come sai il prossimo dove l'chaio si con i vicoli si 복atропitesi i mori sono già i mori un uomo un uomo li io non è che se riuscita non sono ma non 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 sono e se insieme ora le vi sono 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 quello che la sapevo l'u collés? Sario ińuato dove ciò che siamo�ésero. C'è l'chio di più, ciò qui c'è già. C'è unters l'anni suonano, ciò ai piú? C'è l'assezia. Ciò di più? E'? 呀,? Non so tempo. La prima braste pranke circa 300 milcono dell'anno di pietta la Shammat Vander, si pata e so farò come ai ha rosso nani anhammo moro da voto di una manetica ma un'ang bagie balgahalawan e marò come a kinga na sigaret muna pittong marevo e bebiase da qua di papi no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.